... Augurissimi di Buona Pasqua, pace e serenità. Che cosa augura questa città, questa città di cosa ha bisogno? Di molto, parecchie cose. Tipo ad esempio? Un po' di ordine, un po' più di pulizia e... Sicurezza, pulizia, è una classe politica un po' più adeguata a quelle che sono le esigenze dei cittadini perché noi purtroppo ogni anno che votiamo ci ritroviamo personaggi che non sono capaci di portare avanti una politica seria e corretta per il bene della città. Fra un mese si andrà a votare? Speriamo che votiamo bene, di votare bene tutti quanti, non come adesso che votiamo i vecchi, un po' di novità. Che vuol dire votare bene? Votare bene significa non votare più quello che è passato perché molti saranno candidati del passato e noi abbiamo bisogno di gente nuova. Quindi scegliere il rinnovamento? Rinnovamento, esatto. E auguri a tutti i torresi e soprattutto ricordare bene. Vogliamo fare un messaggio di auguri di Buona Pasqua ai cittadini di Torre del Greco? Certo, tanti auguri di Buona Pasqua a tutti i cittadini di Torre, che sia una Pasqua di serenità. Lei come la vivrà? Nel segno delle tradizioni? Sì, abbastanza, in famiglia, cercando di stare con le persone care, cercando di non mangiare troppo. Ma nel rispetto delle tradizioni ha già fatto pastire a Casatiel? Io personalmente no, però sì, i miei parenti, la mamma in pasta e quindi sicuramente sarà una Pasqua tradizionale. Auguri a tutti e speriamo che la città abbia un ottimo sindaco per i prossimi anni. Feliz Pasqua a tutti, a tutto il mondo, un saluto. Augurissimi a tutto il popolo torrese e speriamo che il sindaco faccia qualcosa di buono. Buona Pasqua a tutti, felice e serena Pasqua a tutti, che dire. Lei come la vivrà questa Pasqua? Io veramente andrò fuori per un weekend. Quindi non nel segno delle tradizioni? No, quest'anno no, senza tradizioni, ogni tanto bisogna cambiare. E cosa augura ai cittadini di Torre del Greco? Il meglio, tutto il meglio. Sta facendo la spesa per questi giorni di festa? Sì, sì, queste. Auguri a Buona Pasqua a tutti a Torre del Greco. Lei come la passerà questa Pasqua? Nel segno delle tradizioni? Sì, sì. Ha già preparato casatiello, pastiera? Sì, tutto pronto.